Ciao a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti su Lely King TV Continuo spacchettamento dei calciatori 2018-2019 Mi raccomando lasciate un bel like a questo video E iscrivetevi al canale e attivate la campanella Per stare sempre a aggiornare i suoi video Che usciranno prossimamente sul canale Perché ne facciamo veramente tantissime di raccolte Fra cui questa dei calciatori 2018-2019 Allora andiamo ad aprire subito la prima bustina ragazzi Eccola qui Nella prima bustina dei calciatori Di questa puntata, di questo video E il primo giocatore che esce fuori è della Spal Ed è Vicari Dopodiché abbiamo Der Napoli Mario Rui Portoghese Ex Roma Ex Empoli L'altro anno non è una stagione felicissima per lui a Roma Dopo la stagione super ad Empoli l'anno prima Poi abbiamo Lissandro Lopez Del Genoa Lo stadio Carlo Castellani E tre giocatori Der Foggia Ragazzi voi come al solito Scrivete sotto nei commenti la vostra figurina preferita di questo spacchettamento Mi raccomando Commentate in tanti Seconda bustina Vediamo cosa esce fuori Un giocatore del Frosinone Che è Sportiello Il portiere Del Frosinone Chigline Del Chievo Verona Viviani Della Spal Ex Roma Poi abbiamo La figurina speciale Della Samp Con De Frel E Caprari Eccola qua E la maglia Della Samp Nella stessa bustina Abbiamo trovato due figurine della Samp Toria Tra cui La maglia E la figurina speciale Oh qui c'è un giocatore della Roma Che è Zonzi Che se non sbaglio Ce l'ho Zonzi Dovrebbe essere doppione Zonzi Eccolo Poi abbiamo Ospina Portiere Del Napoli Pavoletti Del Cagliari Poi abbiamo Tre giocatori Del Venezia E tre giocatori Del Padoa Altro pacchietto E abbiamo Del Bologna De Maio Insigne Ter Napoli Eccolo Sicuramente lui Prenderà molti voti Dicchis Giocatore del Bologna Poi abbiamo Tre giocatori Dell'Under 21 Italiana Tra cui Bernardeschi No Scusate Mandragora Locatelli E Di Marco Poi abbiamo Tre giocatori Del Lecce Tra cui Cesare Bovo Che Ha giocato Con molti club In Serie A Tra cui Palermo Parma Genoa Roma Insomma Ha girato Parecchie squadre In Serie A E adesso Quest'anno In Serie B A Lecce Quinta ed ultima Bustina Abbiamo Gerson Ex giocatore Della Roma Adesso in prestito Alla Fiorentina Gerson Che ha avuto Un ottimo inizio Di stagione Quest'anno Pinamonti Del Frosinone Eccolo Andreoli Del Cagliari Ex Inter Ha giocato Poi anche Con la Roma Una stagione In prestito Tre giocatori Del Benevento E tre Giocatrici Calciatrici Del calcio Femminile Dell'Italia Ragazzi Per questo Spacchettamento È tutto Ci vediamo Nel prossimo video Ciao a tutti